buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 28 luglio 2023 una giornata più fresca rispetto ai giorni passati quindi ce la possiamo godere tutta perché ormai la temperatura è diciamo così gradevole anche se durante la giornata qualche impennata dovrà registrarsi lo vediamo dopo con le previsioni del tempo intanto sfogliamo l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa dei santi Nazario e Celso furono entrambi arrestati a Milano mentre proclamavano il Vangelo mentre predicavano la loro fede e furono martirizzati era l'anno 68 allora imperava l'imperatore Nerone ecco i santi Nazario e Celso allora vediamo le previsioni del tempo ecco la grafica ecco il sole tanto sole su tutta la regione bel tempo con tanto sole salvo variabilità tra appennino e maceratese forte scirocco sulle coste valori massimi tra i 28 e i 33 gradi queste sono le temperature che si registreranno nel centro della giornata a temperatura minima raggiunto e 19 gradi i venti sulle coste spirano da est sud est mentre nell'introterra da est nord est e il mare dovrebbe essere piuttosto calmo ma magari con una leggera brezza ma di questo chiediamo confermo a Gianluca Guidi della spiaggia i sassi sotto Marotta ciao Gianluca buongiorno a tutti ecco ti buongiorno dici subito com'è il mare stamattina con un po di vento dovrebbe essere dovrebbe essere mosso mi sembra è vero guarda questa mattina invece siccome si parla di garbino ancora o quantomeno brezza di terra il mare è una tavola è stupendo adesso provo a farvelo vedere sì grazie bello veramente così oggi la giornata è stupenda per adesso come dicevi giustamente te si alzerà il vento sarà un scirocco probabilmente nel scusa sarà di scirocco probabilmente nel nel pomeriggio quindi magari pomeriggio si alzerà un po ma la mattinata sarà sicuramente stupenda la giornata la temperatura è giusta normalmente si alzerà a pranzo ma tanto è normale siamo insomma siamo in estate quindi giusto che ci sia anche il giusto caldo quindi oggi giornata perfetta com'è andata la giornata di ieri dato tutto bene sì sì a differenza di ieri che c'era ancora un po di mare mosso oggi invece il mare calmo quindi oggi secondo me sarà una giornata più bella di ieri quindi quando inizia il servizio di salvataggio bandiera bianca un po tutta la spiaggia a dire il vero se ci sarà ancora garbino questo qui questo vento che porta fuori noi io e tutti gli altri miei colleghi teniamo bandiera rossa perché sembra il mare calmo sembra tutto bello però bisogna sempre stare attenti perché porta a largo quindi con canotti gommoni quando c'è garbino sempre sempre bandiera rossa guarda stamattina non ne azzecco una ho detto che il mare era mosso invece il mare era calmo detto che c'è bandiera rossa invece c'è bandiera bianca quindi lascio a te veramente da noi si dice ognuno il suo mestiere però va bene è vero è giusto che sia così però invece voglio farti una domanda importante è importante anche la tutela della sicurezza in altre spiagge ormai si stanno assumendo anche dei vigilantes per tutelare le attrezzature da coloro che poi magari si fermano durante la notte fanno e causano dei problemi da te la situazione come al momento per quanto riguarda la sicurezza diciamo che durante la settimana è abbastanza tranquillo il fine settimana anche io diciamo una persona che mi controlla la lo stabilimento perché il fine settimana qui che più più che ottico adesso entriamo nel mese di agosto che non ti voglio dire che ogni giorno è un fine settimana ma l'attenzione sarà sicuramente più alta per tutto poi arriveremo al fine stagione che lì più che diciamo vandali si parla di più di furti perché bassa stagione quindi all'inizio noi siamo soggetti a furti insomma arrivano proprio criminali organizzati con camion che portano via tutta l'attrezzatura lettini ombrelloni anche quello insomma è un bel danno certo certo questo è un problema importante ne parleremo dopo nella nostra rassegna stampa per quanto riguarda le imprese di bande di ragazzini che invece di fare delle bravate si spingono oltre Gianluca ti ringraziamo ti diamo appuntamento a domani sempre con questo bel viso sorridente e sotto un cielo azzurro che speriamo si mantenga così insomma grazie a dopo a voi a rivederci ciao 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 apriamo i giornali oggi sul Corriere Adriatico e vediamo la pagina di Fano vediamo un'apertura appunto dedicata alle bravate tra virgolette di bande di ragazzini che si spingono oltre alle bravate e in modo particolare si accentua l'attenzione sul quartiere del Poderino dove il consigliere comunale della Lega Luigi Scopelliti annuncia di voler presentare insieme a tutto il suo gruppo una interrogazione in consiglio comunale per spingere la giunta a prendere dei provvedimenti Poderino un quartiere in balia dei baby teppisti furto di bibite alcol e schiamazzi furto di bibite è stato compiuto nella sede dell'associazione Viviamo il Poderino un'associazione che si dedica a così a ravvivare il quartiere ad organizzare manifestazioni alcune festiciuole ogni settimana c'è una iniziativa che si svolge nella sua sede ebbene bandi di ragazzini cosa hanno fatto sono entrati lì di notte hanno preso 200 euro di bibite quattro bottiglie di frizzantino e se la sono scolati in piazza fino alle 4 del mattino ovviamente tra schiamazzi baldori e via dicendo così non si può più andare avanti dicono i residenti anche il parco del Poderino quel grande parco che viene costeggiato da via Piemonte viene continuamente vandalizzato da ragazzi che poi di notte danno sempre danno sempre in escandescenze e quindi la situazione sta diventando non dico invivibile cedendo i limiti ed ecco perché le forze dell'ordine ma anche l'amministrazione comunale dal punto di vista sociale è chiamata ad intervenire ed è appunto Scopelliti che fa un quadro di tutta la situazione prendendo le mosse un po' da quella denuncia che ha fatto nei giorni scorsi il preside del liceo Nolfi Apolloni Samuele Giombi che aveva notato la presenza dei gruppi di ragazzi da attenzionare sia al Pincio che in centro storico in piazza Amiani. Veniamo alle altre notizie vediamo che oggi sarà una giornata importante per la mobilità compatibile in quanto il comune di Fano riceverà insieme ad altri 16 comuni la bandiera gialla che è il simbolo appunto delle città in cui si attua in cui si attua una politica che cerca di insomma escludere i veicoli motorizzati e favorire invece la mobilità dolce quella ciclabile. Alle 17.30 il vessillo verrà consegnato dalla FIAB che è l'associazione appunto che incentiva la mobilità dolce nella chiesa di San Francesco insieme ad altri 16 comuni. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alla viabilità Barbara Brunori che ha colto l'occasione per ricordare anche gli ultimi interventi che sono stati realizzati dall'amministrazione comunale per quanto riguarda le piste ciclabili e sono veramente tanti. Si parte dalla illuminazione e le corsie ciclabili su via Roma, l'intervento su viale adriatico, il primo tratto della ciclovia adriatica a Ponte Sasso, inoltre quella di via Soncino, via Negusanti, via 4 novembre, via della Giustizia, via Fornace, via Trave e la zona a 30 chilometri orari che è stata fatta appunto in via Trave e poi la pista ciclabile dell'Arzilla. Sì, qualcuna di queste piste ha suscitato delle polemiche per quanto riguarda l'impatto che è stato fatto nell'ambiente ma ovviamente la mobilità ciclabile e ne ha guadagnato. Altre opere sono poi imminenti, sono le ciclabili del nuovo impianto natatorio e del parco urbano, soprattutto la ciclabile Fano Bellocchi che appunto entra nell'aeroporto e collega anche il nuovo impianto natatorio di via Mattei. Dunque tante tante iniziative che dovrebbero poi collegare le piste ciclabili esistenti in una rete che permette di partire da un punto e arrivare in un altro senza poi avere dei tratti dove bisogna scendere dalla bicicletta perché poi lì subentra il traffico motorizzato. E vediamo invece un altro articolo di apertura del Corriere Adriatico sulla seconda pagina che riguarda la sanità, la buona sanità perché Fano e Urbino esistono dei medici molto, anzi è lo stesso medico poi, esistono dei medici molto importanti per quanto riguarda la cura del tumore al seno. Il carcinoma, una donna incinta operata d'urgenza, è stato il dottor Magalotti a operarla, ce l'ha mandata l'OIEO e sta bene. L'OIEO è l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e questo dimostra anche la fiducia che i grandi luminari della sanità che operano appunto a Milano nutrono anche per i nostri professionisti che sono a Fano. Non è detto appunto che i grandi medici si trovano solo nelle grandi città, ci sono anche nelle piccole città e questo è un caso veramente eclatante. Una donna di 36 anni di arcevia è stata operata dal chirurgo senologo Magalotti affiancato dalla sua collega Martina Nisi, i quali hanno rimosso un grosso tumore alla mammella, pensate era grosso 7-8 centimetri, in uno stadio poi molto avanzato di crescita, quindi un intervento particolarmente laborioso è stata effettuata una mastectomia radicale comprensiva di asportazione poi di tutti i linfonodi e la ricostruzione immediata del seno e poi questa ricostruzione dovrà poi operarsi anche tra un po' di tempo, comunque l'intervento è andato molto molto bene e la paziente sarà rimessa molto molto presto se non è stata già rimessa, quindi veramente un'operazione condotta con grande professionalità e tempismo. Andiamo ora a Cartoceto, a Cartoceto è stato individuato un raid, così possiamo dire, ma è meglio dire una manifestazione di motori fatta in maniera non legale, impennate in moto e derapate in auto, stangata da 1000 euro per gli spacconi. C'è stato un blitz dei carabinieri e della polizia locale nella zona di Borgognina dove c'erano gli spettacoli dei motori e c'erano molti ragazzi che si esibivano con i loro veicoli a motori di fronte a un pubblico di oltre 100 persone che erano poi loro coetani. Sono costati cari però queste esibizioni perché la polizia e i carabinieri è intervenuto e ha applicato ingenti multe a tutti questi ragazzi, 1000 euro ciascuno. Un centinaio di giovani assisteva al raduno, un'attività che si animava soprattutto nei weekend con un profilo Instagram e quindi ovviamente pubblicato dei soci e l'ha subito attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. E poi a fondo pagina abbiamo invece un appello che riguarda la manutenzione del fosso di Carrara, il rio di Carrara, il fosso che ora necessita di molti lavori di manutenzione ma che ultimamente a causa del maltempo ha subito diverse frane, quindi molta terra è caduta nel fosso. Se dovesse arrivare un'ondata di piena, sapete il tempo si modifica molto molto rapidamente e in questi ultimi tempi si passa da giornate serene a tempeste molto molto importanti, diciamo così, con effetti che impattano sul territorio e quindi anche questi fossi possono rendersi pericolosi. Ed è Davide Del Vecchio che è passato dall'Udc a Fratelli d'Italia ora a lanciare l'allarme e a invitare l'amministrazione comunale ad intervenire perché poi, se poi capitano delle conseguenze, verranno ritenuti responsabili i nostri amministratori. A San Costanzo un incendio. A San Costanzo fuoco nella notte, quattro famiglie sono state evacuate. Uno è intossicato ed è stato ricoverato in ospedale. Le fiamme sono scaturite in un condominio di Solfanuccio. I danni sono particolarmente ingenti. Due appartamenti sono stati dichiarati inagibili e per fortuna l'intervento molto molto rapido dei vigili del fuoco ha scongiurato danni maggiori. Però comunque questi due appartamenti purtroppo sono stati dichiarati inagibili. Non ci sono stati feriti gravi e questo è importante perché ieri notte erano state evacuate per precazione tutte e quattro le famiglie del palazzo. Invece a Fraterosa c'è stato un raid di ladri, un raid di furti. È stata svaleggiata anche la casa del sindaco. Il sindaco Avaltroni, Alessandro Avaltroni, hanno svaleggiato la casa sua e la casa sottostante dei genitori. Ebbene, capita anche questo. Al rientro di un impegno del sindaco, Avaltroni ha trovato tutto il suo appartamento a suo quadro. Mobili e cassetti aperti ovunque e nel bagno e nelle camere. Bottino da quantificare. Una brutta esperienza, ha detto al sindaco, soprattutto per il fastidio e i danni arrecati. Forse appunto vedere la squadra, la casa, scusate, a suo quadro è stata un'impressione ancora più dolorosa di quello che poi i ladri hanno rubato. Un danno doppio, quello riportato dal sindaco di Fraterosa, avvenuto durante un impegno istituzionale. I malviventi hanno agito in maniera repentina, dandosi poi alla fuga. E probabilmente si tratta di una banda di predatori, mordi e fuggi che hanno colpito nel territorio provinciale anche in altri casi. Hanno scelto poi altre abitazioni e poi colpiscono e se ne vanno e si dileguano. Andiamo a Senigallia. A Senigallia si parla di enogastronomia, una delle attrattive più importanti del nostro territorio. E Senigallia vanta chef stellati. È un turismo emozionale, la capitale del gusto, così si freggia Senigallia. Il gambero rosso dice che è una delle città in cui si mangia meglio in Italia. Canestrari, qui non solo mare, quindi non c'è solo la rotonda, ma c'è anche un buon mangiare e questo attira sempre più i turisti. Vediamo anche un'occhiata allo sport per vedere come sta andando con il Fano Calcio, che in questi giorni è in una crisi turbulenta di mancata, di rammarico per l'ascesa in Serie C, ma anche per un passaggio di proprietà che ha sorpreso non solo i dirigenti, ma ha sorpreso anche i tifosi. Fano, mamma, che caos, Mancini e Russo, che fate? È l'interrogativo che lanciano i tifosi. Ripescaggio addio, perché ormai la Serie C si è dileguata. È la società che sta passando di mano, grande preoccupazione tra i tifosi. E qui vediamo la foto del nuovo imprenditore che ha preso il Fano Calcio da Russo, si tratta di Benedetto Mancini. E poi a fondo pagina abbiamo la foto del tecnico Marco Scorsini con una espressione alquanto dubitativa. Scorsini dice sinceramente eravamo più pronti per la C, eravamo già proiettati alla Serie Superiore, stavamo organizzando la squadra per questo campionato. E poi la decisione invece della Lega ci ha trovati spiazzati, ora dobbiamo rifare, rimediare, riassettare i cocci, perché poi operare in un campionato minore come quello della D, che non è meno facile di quello della C, ci crea non pochi problemi. Questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Ora passiamo al resto del Carlino e vediamo che l'apertura viene dedicata alla Festa del Mare, che è stata presentata ieri alla stampa nel magnifico contesto ambientale di uno dei quadri del Molo di Ponente. Festa del Mare, quest'anno l'onda è lunga, quattro giorni invece di due, questa è l'onda lunga, quattro giorni invece di due, a partire da mercoledì prossimo. Si allarga al Lido e ci sarà anche il Vescovo, la presenza del Vescovo di Monsignore Andrea Andreozzi è una delle novità, infatti per tanti anni la messa in memoria dei caduti del mare è stata celebrata da Monsignore Armando, scusate, da Monsignore Armando Trasarti, che davanti al monumento dei caduti ha ricordato il sacrificio di questi lavoratori del mare che affrontano in tutte le stagioni una vita veramente gravosa. Quattro giorni di festa che culmineranno nello spettacolo di fuochi d'artificio di domenica prossima, fuochi che verranno così innalzati al cielo dal Molo di Levanti, saranno visibili da Sassonia ma anche dal Lido. Il programma è molto nutrito, mercoledì 2 agosto alle 19.15 sul lungomare mediterraneo nella zona Porto ci sarà lo spettacolo allestito dal coro polifonico malatestiano per quanto riguarda una dentellato con Maria Risorta. Verranno appunto rievocate l'atmosfera marinare di Giulio Grimaldi grazie anche una riduzione del testo di Carlo Simoni e l'esibuzione del coro polifonico che si esibirà in canti della nostra tradizione marinara. E poi venerdì sera si aprono gli stand gastronomici al Porto e per questo verrà anche un po' modificata tutta la viabilità di via Nazario Sauro. È importante la partecipazione del ridosso che avvierà laboratori per bambini, visite guidate per adulti agli emblemi della marineria fanese. C'è la Fano marinara, la Fano gastronomica che valorizza anche tutto l'ambiente del Porto non solo per gli turisti ma anche per i fanesi perché è bello che i fanesi poi che vedono queste cose magari con un po' di superficialità vengano addentrati nell'atmosfera, nella vita dei marinai e prezzino sempre di più questa economia che sopravvive non senza fatica. E poi ci sono tutte le altre iniziative che adesso non sto a leggervi però comunque verranno, verranno, si possono trovare anche nei siti internet ed è stata anche promossa una bella fotografia con il programma stampato nel retro con le immagini storiche delle nostre barche. Un incidente, un elettricista cade dentro uno scafo, servono i pompieri per tirarlo fuori. È accaduto ieri intorno alle 16 nel cantiere Azzimutti in via Papiri a Fano, protagonista un 59enne, per fortuna non è grave ma siccome la barca era molto stretta non riusciva a uscire dallo scafo. Vediamo altre notizie, anche il resto del Carlino dedica ampio spazio ai problemi del Poderino che vengono denunciati dalle consiglieri comunali della Lega Scopelliti e poi un colpo di scena. Ieri abbiamo riferito della vicenda di una signora che si lamentava perché l'amministrazione comunale probabilmente voleva togliergli i gatti che lei accudiva, i gatti che lei amava. Ma siamo sicuri che li amava nel verso giusto? Ebbene secondo quanto riferisce Belampo che è l'associazione che gestisce il gattile, il canile di Ponte Metauro, la situazione potrebbe avere dei risvolti che non sono proprio quelli che apparivano in un primo momento, altro che amore per i gatti. Alcuni di loro erano maltrattati, afferma Belampo. E si tratta della storia della settantotenne Claudia Rondina che si sente perseguitata dall'ufficio ecologico urbano del comune di Fano. In realtà sembra che ci possano essere, ovviamente tutto ecco il punto interrogativo, gli estremi del reato di maltrattamenti sugli animali. Contrariamente al ruolo di vittima scrive la Tornimbeni, che è Cecilia Tornimbeni, la responsabile appunto dell'associazione Belampo, dice che ci possono essere gli estremi del reato di maltrattamenti di animali in quanto la signora che vorrebbe attribuirsi il ruolo di vittima in realtà non è che trattava molto bene i suoi animali. C'erano per esempio alcuni gatti che da dieci mesi erano costretti a vivere 24 ore su 24 in un recinto più piccolo di un box doccia, senza mai uscire, segregati in una prigione in cui non circolava aria, senza mai appunto uscire, una condizione insopportabile per le loro caratteristiche etologiche. Insomma una situazione che non appariva, non è reale come appunto veniva descritta in maniera precedentemente insomma. E anche sul resto del calino poi si parla del rodeo da brividi che è accaduto nei pressi di Cartoceto che è stato sgominato dalle forze dell'ordine. Qui abbiamo anche delle fotografie e vediamo delle evoluzioni dei ragazzi sulle due ruote ma anche per quanto riguarda la macchina e poi il furioso incendio di notte residenti fuggono dalle case a San Costanzo. Ma a questo punto abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione per cui chiudiamo i giornali. Vi auguro una buona giornata e poi noi ci risentiremo domani alle 7. A risentirci! Grazie a tutti!